Turni di riposo che saltano, si moltiplicano i rientri e i diritti contrattuali non vengono rispettati. A lanciare l'allarme in merito agli operatori della sanità a retina che lavorano negli ospedali e nelle strutture pubbliche sono i sindacati CGL e Will. Per questo i rappresentanti della funzione pubblica hanno scritto una lettera sia al direttore generale Antonio Durzo che alla direttrice amministrativa Antonella Valeri. Sul piano degli organici è un disastro, i lavoratori della sanità sono allo stremo, una situazione che nei mesi estivi diventa esplosiva. Si lavora a ritmi sempre più elevati con carichi di lavoro insostenibili mettendo a serio rischio la salute di lavoratori e pazienti. Su queste crisi pesano poi le responsabilità del governo centrale che persiste nel definanziare il servizio sanitario nazionale. Le misure alternative adottate proseguono come la pronta disponibilità, l'aumento di ore di straordinario, la flessibilità e il personale con contratti atipici, l'incontrollato ricorso alle prestazioni e aggiuntive non sono in grado di dare risposte necessarie al sistema. In sostanza si spendono risorse per comprare a caro prezzo lavoro supplementare invece di assumere e nel contempo si impoveriscono i lavoratori. Serve un piano di assunzioni stabili che riguardi tutte le professioni. In questo quadro i sindacati intendono aprire un confronto che porti alla pianificazione di interventi strutturali in grado di dare risposta ai cittadini e ai lavoratori. Tale confronto, concludono, deve interessare le aziende sanitarie, le istituzioni, a partire dalla regione sino alle comunità locali e tutti i soggetti interessati ad una sanità pubblica e universale.